Giovanni Pascoli nasce il 31 dicembre 1855 da Ruggero e Caterina a San Mauro di Romagna. Leopardi è morto da 18 anni, Manzoni ha 70 anni, Carducci 20. L'Italia è ancora da fare. Tra fratelli e sorelle è il quarto di dieci figli. A sette anni entra al collegio degli scolopi di Urbino. Vi resterà fino ai 16. Non ha ancora 12 anni quando il 10 agosto del 1867 suo padre è ucciso per strada mentre sta tornando a casa. L'anno dopo muoiono la madre e la sorella Margherita. Tre anni dopo il fratello Luigi. Nel 1876 muore il fratello maggiore Giacomo. Il male. Per un bambino perdere il padre è già il male assoluto. Pensate poi se a ruota. Nel giro di pochissimi mesi muoiono anche la madre, la sorella e poi più avanti anche altri fratelli. Ecco con una famiglia in gravi difficoltà economiche abbiamo Pascoli a 20 anni che rimpiange già un'età perduta e felice. Il primo nido ormai distrutto. Il primo nido ormai distrutto.